Ciao cicci, bentornati sul canale, io sono Nemir e oggi siamo qua tornati con GeoGuessr Sono un po' infisso ultimamente con GeoGuessr e pare che comunque vi garbi anche a voi quando faccio finta di sapere la geografia sul canale Quindi eccoci qua con un nuovo video Oggi al posto di visitare un paese, una regione, andiamo su una mappa costruita da qualcuno Una mappa custom map ideata da tale Grezza, chiunque sia, ovvero delle UK Amusement Arcade Quindi tutte le location, e questa mappa ha più di 250 location scelte a mano Sono riguardanti sala giochi, sala giochi in Inghilterra In Inghilterra, un po' come l'Italia, ha una grande tradizione di sala giochi Quindi soprattutto, anzi, solo ed esclusivamente, praticamente sulla costa Essendo un'isola, tutte le varie città della costa hanno questi pier, questi pontili Con le varie sala giochi, quindi tutte le località di mare, un po' come succede in Italia, Rimini e quant'altro Ci sono varie sala giochi Quindi qualcuno ha creato una mappa a riguardo di tutte le sala giochi inglesi Cosa che... così, sono abito qua in Inghilterra, ok Mi piacciono le sala giochi, non è detto che conosca tutte queste sala giochi Anzi, probabilmente farò non poca fatica a giocare questa partita In realtà poi ho fatto anche io una mappa, invece con tutte le sala giochi italiane Che vi faccio vedere dopo il video alla fine E vi lascio anche il link sotto in descrizione, nel caso vogliate provarla Comunque, direi di iniziare subito la partita E vediamo un po' dove ci porta oggi Geoguesser Ok Iniziamo già malissimo Questa sarebbe la sala giochi Bella Station Arcade Station Arcade mi viene da dire che c'è una stazione qui Esatto, questa è la ferrovia e questa è la stazione Dove, dove siamo? Coleraine to Derry London Derry Renewance Project Phase Blah, blah, blah Ah, ok Non è di troppo aiuto, non mi hai spiegato molto Mi dite che stazione è, dove siamo Di che posto è questa stazione Siamo in un posto, suppongo Suppongo sulla costa Ma a questo punto non ne sarei troppo sicuro Bustle Station Translink City Park and Rye Maintenance Ok No Non ci Oh, attenzione Taxi Taxi Di solito Hanno buone notizie 028 Numero fissi Iniziamo veramente, veramente male Dove siamo? Ok Belfast Ok Attenzione Belfast Sulla 26 A sinistra E invece Se andiamo a destra Dove andiamo? A Bushmills Belly Castle Ring Road Non so Allora, aspetta Intanto siamo da qualche parte Indicazione dice Per andare a Belfast 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 Siamo qua In Northern Ireland Ring Road Allora, mettiamo intanto Un posticino lì Ci diceva il nome della via Cioè il nome della via Belfast Belfast A 26 Quindi un A road Per andare a Belfast 26 A 24 A 55 A 2 Non è di molto aiuto A 24 Continua Però Essendo Io sono Comunque A 8 Belfast Andiamo un attimo In giro Perché Difficilmente Ci sono Delle sala giochi Comunque Questa stazione Di merda Potrebbe Per esempio Aver scritto Di dove Cioè Bella stazione Non ciò vuoi dire Porca miseria Perché se ci fosse scritto Il nome della località Qui dentro Dove vanno Sti treni Che posto è Che posto è Ah ok Mi sa che è questo Col Col Rain Col Rain Col Rain Perché lo vedo Qui Col Rain Ok Siamo a Col Rain Che mi verrebbe Di dire Sia da Qualche Oh Attenzione Col Rain Col Rain Col Rain Col Rain Col Rain Station Noi siamo Noi siamo Riten to start Davanti a sala giochi Che è la station arcade Sta letteralmente a passaggio A livello E poi si biforca In tre strade Station arcade Siamo qui Riten to start Esattamente In questa corsia Qui davanti Quindi direi che Sì Qui va bene Guess Un metro Il punteggio perfetto Per ora Ok Andiamo avanti Questo era Abbastanza facile Ok Williams Leisure Services Pensarn Pleasure Beach Family Entertainment Ecco Questo qui E' più Quello che Di solito Mi aspetto Da una Sala giochi Inglese Ovvero Hanno questi Lungomari Un po' Desolati Abbiamo beccato Anche una giornata Di quasi sole Qua Quindi Ok E niente C'è questo Edificio lungo A un piano E Con delle gestrine E altre robe Marce Queste sono Le cose Che sono Giochi Inglese Ok Siamo sulla costa Ma proprio Proprio Sulla costa Williams Leisure Pensarn Non penso Che Oddio Pensarn Potrebbe tranquillamente Essere Il nome Di un posto Devo essere Sincero Non Pensance Pensarn Potrebbe essere Il nome Di un posto Di un posto Sulla costa Sappiamo Che siamo Sulla costa Assolutamente Però La costa inglese Che non è Proprio Piccina Quindi Williams Leisure service Anche questo Difficilmente Ci aiuterà Vedo delle montagne Andiamo Andiamo avanti Vediamo se c'è il nome Di questa località Un nome Della regione Cercare di raccapezzarsi Un attimo Se iniziare a cercare Da nord Sud Ok Surfside Surfside Chiaramente Un posto Dove si Posso andare qua No Bedone Non ci sta dando Molte Molte Indicazioni Abbastanza Cos'è questo? Un mini golf Bellissimo Bellissimo Classica Che questa Classica Attrazione Mini golf March Allora Abbiamo Pantry Bach 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 Shopping Caffè Pantry Potrebbe essere Il nome Del posto Pantry Ma forse Vogliamo scrivere Pantry Beach Ok Interessante Mi piace Molto Che Siamo Talmente Non so Si può Entrare Con la macchina Sulla sabbia Letteramente Sulla spiaggia Con la macchina Fantastico Tanto per farvi capire Come funziona Come funzionano Ok C'è la ferrovia Canol Canol Idrell Down Down Center Allora Il fatto che ci sia scritto Canol Idrell Qualsiasi cosa voglia dire Chiaramente Mi viene da pensare Che potremmo essere In quella parte Dell'Ighilterra Dove parlano Dove parlano Non lo escluderei Non lo escluderei Non sappiamo bene Ancora dove Però Non ha Molto senso Sinceramente Iniziare a cercare Così A random Perché Di costa Da coprire Non ce n'è poca Adesso Intanto Metto il mio Cosino Andiamo Verso il Town Center Andiamo Nel centro È una stazione Questa Eh si è Questa è una stazione Aspetta 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 Ma che cos'è Come fa a essere La stazione Sta Merdina Che stazione È Lì c'è scritto Il nome Di dove siamo Ok Vediamo se Dall'altra parte Si riesce A cercare Un po' meglio Attenzione Attenzione A Bergel E Pensar A Bergel E Pensar Ok Pensar Era esattamente Il nome del posto Ora A Bergel E Pensar E Come ho detto Penso Che Saremo Qui In Galles Qua da qualche parte Solo che Galles Non è piccolo Perché Continua qui Tutto Questo pezzo qua Quindi Ce ne sono tanti Pezzi Che potrebbero essere È dura È molto dura L'unica Sarebbe cercare O almeno Sapere Le ferrovie Vedere dove va La ferrovia Solo che la ferrovia Non mi pare di vederla Particolarmente Ok Questa ferrovia Che arriva Da Non so bene Dove Consideriamo che Potremmo essere Da qui in poi Ok E la ferrovia In questo caso È molto Molto vicina Al mare Perché Siamo praticamente Lì Quindi direi Proviamo a seguire Un attimo Questa Questo è il filo Del treno Questa riga Qui È chiaramente Il filo Del treno A meno che Cazzo Ce ne sono altre Ovviamente Allora Seguiamo questa qui Che è Più vicina Attenzione Questa qui È proprio Siamo proprio Sul mare Qua Quindi Continuo a seguire La ferrovia Che costeggia Più o meno La costa Perché Mi pare La soluzione Migliore Però lì Va un po' Lontano Dalla costa Sta gente Qui Non ce l'ha La ferrovia Probabilmente No Ok Allora Continuiamo Andiamo Su 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 Sempre No Ok Un po' Troppo Lontano Siamo Dalla costa Qua Questa Sezione Qui Esatto Dove Siamo Mi sono Già Dimenticato Mi si Chiama Albergel 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 Aberggio E Pensarn Decisamente No Questa Un'altra Ferrovia O No Sì 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 Questo Simbolo Swansea Decisamente Non siamo Swansea Qui c'è La ferrovia Non mi pare No Eppure Siamo Per forza In un posto Dove Passa Il treno A Uno Sputo Dalla Riva Del mare Perché Non Cioè Deve essere Proprio Uno sputo Quindi Non può Essere Nessuno Di questi Tipo Ok Qui Uh Attenzione Attenzione L'anelli Mai sentito Nominare Ma in realtà Mai sentito Nominare A metà Di 99.9% Di questi Posti Ma Quella Lì è Solo Ignoranza Mia Ok Iniziamo Con i posti Che hanno Due Nomi Potrebbe Essere Di Nostro Gradimento Come Si Chiama Qui Kid Welly No Ovviamente Siamo In un Posto Minuscolo Ferry Side No No Non Sul Fiume Non ci Interessa Noi Siamo Sul Mare Quello È Chiaramente Il Mare Non È Un Fiume Qui C'è La Ferrovia Ok Seguiamo Continuiamo A seguire La Ferrovia Tenby No Capisco Che è Un posto Veramente Piccolo Dove Sparite Le Ferrovie Ok Qua Manor Bier Manor Bier No Pembro Castle Mi serve Una Ferrovia Che Sia Proprio Sul Mare Attenzione Ho pensato Una cosa Che non Ho Considerato Ovvero Abbiamo Deciso Ovvero Capire Che era Probabilmente La primissima Cosa Che dovevo Fare E capire In che direzione È il mare Sono tutta A testa Come le mazzole Ok Il mare È A nord Quindi Se il mare È a nord Preciso Dritto Dobbiamo essere Qua sopra Per forza Non possiamo Essere Giù Sono Stupido Cioè Sono Sopro Intelligente Adesso Che ci sono Arrivato Quindi Decisamente Cerchiamo Una ferrovia Che costeggi Il mare E Il mare È Puntato A nord Quindi La nostra Mappetta In alto Qui Non vedo Delle Gran Ferrovie Devo Essere Sincero Qui Non c'è Assolutamente Niente Il nulla Più Assoluto Andiamo Qua sopra Non mi pare Continuano Eserci Delle Ferrovie Sono Sono Perso Ragazzi Dove Finisce Poi Il Galles Ho Perso La Linea Qui Siamo Ancora Tutto Ok Quindi Abbiamo Ancora Tutto Questo Pezzo Qua Attenzione Fishguard Harbor No Però Abbiamo Il capolinea Oltretutto Abbiamo Una ferrovia Che No Se ne va Ben lontano Dal mare Noi ci serve Proprio Sul mare Questa Si sta Rivelando Molto più Difficile Di quello Che pensassi No In realtà Avevo Assolutamente Inteso Che Essendo Tutte Le Salle Inghilterra Sul mare Soprattutto Molti Sono Completamente Desolati Perché Non so Undici Mesi All'anno Non ha Veramente Senso Andare Al mare Qua Quindi Troviamo Uno straccio Di ferrovia Che Ci da Sul mare Potrebbe essere Qua Aberport Il fatto che Non ci sono Ferrovie Pembrin Mannaggia Un disastro Un disastro Fortissimo Torna Ad esserci Un po' Di civiltà Non mi pare Ci sia Quello Che mi chiedo È Quelle Sono Delle Pseudo Colline Sì Dove Stanno Le Pseudo Colline Madonna Siamo Qua Sopra Potremmo Essere Qui Bagnor 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 Non è Non mi suona Il nuovo Ma qui c'è la ferrovia Che da più o meno Sul mare Questa da molto Sul mare Nomi impossibili No Non c'è niente Dall'altra parte Maronna Non penso che riuscirò mai A trovarlo Impossibile Cioè potrebbe essere ovunque Fino a qua Ci sono troppi posti No dai Allora Bisogna trovarla È inutile Non è che stiamo qui A pettinare le bambole Devo 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 Soppesare la mia mancanza in geografia Perché Suppongo che Se sai Dov'è questo posto Di cui mi sono già dimenticato il nome Ma sono sicuro che se lo vedo scritto Poi me lo ricordo L'ho trovato Ok Ok Pensern Pensern Pleasure Beach Amusement Fammi tornare al posto Start Pensern Pleasure Beach Amusement Esattamente nel mezzo del palazzo Siamo qua Che siamo Tre metri Proprio Mentre stavo Perdendo le speranze È arrivata L'aiuto divino Che ci ha fatto trovare Pensern A Bergerer Ok Per favore Qualcosa di un po' più Un po' più semplice Tipo Brighton Quei posti lì dove sono stato Quelli facili O anche le salagioche Che ci sono in centro a Londra Anche quelle le conosco E No Ok Non siamo neanche sul mare No Sì Per forza Waves Amusement Siamo per forza Sul mare Secondo me qui c'è scritto Questo è il loro furgoncino Vuoi che non ci sia scritto Dove sono Beach Road East Prestalin Prestatin Ah c'è anche il codice postale LL197L Ma Codice postale Mi dice Poco e niente Mi viene da dire Che siamo a Prestatin Ma Capite bene Che Prestatin Potrebbe essere Più o meno Dappertutto Tuampatau Ok siamo ancora in Galles Perché è scritto In inglese Sotto E in gallese Sopra Tuampatau Sono i dossi E il dwich Vuol dire Dar la precedenza Però Sai cosa vedo Vedo una cosa Che mi piace molto Che però adesso è coperta Porca miseria Si è coperta Dov'è Per favore Mi Devo vedere Il nome Della Ok Stazione Gorsaf Se troviamo La stazione Siamo a cavallo Ma qui siamo sul mare Abbiamo deciso La madonna Cos'è sta posto? Nova È tipo un Leisure center Ok And the fruit Beach road west Nova Siamo proprio sul mare Qui Assolutamente Siamo in Galles Siamo sul mare Siamo davanti a Wave amusement E di qua Da qualche parte C'è la stazione Se noi troviamo La stazione Poi siamo A cavallo Perché Trovate la stazione Ci dovrebbe poi dire Più o meno Dove siamo Prima ha funzionato Ora Maronna Avete presente Il cielo intombato Eccolo Oh Come l'ho detto Il sole Ah niente Continuiamo avanti Central beach pub Di solito Ci sono scritte Le cosine Sui pub 2011 Membership Join now Ok Roba recente In pratica Vediamo un po' Se riusciamo A trovare La stazione Lido beach stores Off license Stop Lido 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 No Non ci ha aiutato Molto Questa strada Chiusa Non andiamo Giù di qua Pare di capire Che la stazione Sia abbastanza Lontana Dal mare Io continuo Ho visto qualcosa Ho visto qualcosina Flint E real Ok La A548 Iniziamo a guardare un attimo In galles ancora Se troviamo la A548 A548 è una strada A548 534 523 520 562 Ovviamente sono un po' Tutti così a caso Questi bellissimi nomi No Manchester no Siamo Abbiamo deciso Siamo qua in galles Quindi Qua rimaniamo A548 Qui sono tutte 400 400 300 Bristol Ah ok Ho finito Eppure Non mi pare Ci sia Oltre il 490 Ok Non necessariamente 548 Eppure Cioè questo qui è tipo È il confine No Nationals No Sì Wales England Ok Deve Essere Più o meno Vicino al mare Cioè Non più o meno Deve essere per forza Vicino al mare Però la A548 Che porta Da una parte A Flint E dall'altra parte A Rill Io non le trovo Ovviamente Perché mai dovrei Prima di tutto Vediamo se Flint e Lynn Attenzione Esatto Quello che stavo dicendo Vediamo se Flint e Rill Sono due posti grossi Rill Chiaramente lo è L'A458 Io comunque Non la vedo Allora Se noi siamo qui E C dice che A destra Ovvero Se stiamo andando Verso sud La destra è West Quindi ovest Se a ovest Cioè di qua Si trova Rill Vuol dire Che Noi siamo Da qualche parte Da qualche parte Qua Prestatin Era Prestatin? Devo tornare indietro Sono sicuro? No 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 Fratello Era Prestatin Si 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 Prestatin Maronna Ok Quindi vicino alla spiaggia Di Prestatin Prestatin Beach Questa per forza Si Prestatin Eravamo qua No? Dove cavolo è sto Sto amusement Beach Beach road East No Porca miseria Era beach road West Mi pare Beach road No beach road East Prestatin C'è questa cosa La strada che fa La curva Wave amusement Arcade Ok Siamo davanti Proprio In linea diretta Forse siamo Un filino più così Un metro Ok Ok Round 3 Passata Siamo già a mezz'ora Vabbè 10 minuti a round Mi pare Mi pare Onesto Fatemi bere un po' Un po' di tè Alla pesca Questo video Non è sponsorizzato Dal tè San Benedetto Anche se mi piacerebbe Lo fosse Comunque Prossimo round Guardate che bella gente Che guarda Lui è molto felice di vedere La cosa La macchina di Di Google Street View Ok Siamo in un'altra località Di mare Inglese Classico Ci sono solo Bingo Casino Pleasure Beach Giostrine Marce E questa sala giochi Che è Funland Bingo Ci dice Dove Siamo No Barfly Funpub Snackbar Link Cash Machine Vediamo Links Bingo Casino Orbiters Kids Go-kart Inside Plaza Orbiters Pool Prices Ho capito Mi dite Temping Bowling Temping Dove sono Sparito Ok Wild River Ok Un posto Sembra 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 Un po' Sembra Un po' Una merda Mettiamo Siamo Un po' Cheap Però Sicuramente Ci sono Delle cose Decenti Comunque Lasciando stare Ho visto Un bidone Bidone Ci dice Il nome Del council Non sarebbe Male Allora Non mi fa Cazzare Vediamo Un po' Skegness Skegness Ball Ok Skegness È un posto Famoso Tipo Brighton C'è solo Un problema Non sono Mai stato E non so Dove Mi pare Che sia Al sud Da qualche Parte Se Se non Sbaglio Skegness Mi verrebbe Di dire Che sia Da queste Parti Qua Potrei Sbagliarmi Sbagliarmi Skegness Skegness Oppure No Skegness Ok Ok Non era Sud Ma più o meno La zona Era quella Skegness È per quello Che è così Grande Perché È abbastanza Famoso C'è il McDonald's Abbiamo visto McDonald's Esatto Plaza Abusement Arcade Skegness Funland Links Ok Ci siamo Funland Amusement Siamo esattamente Davanti a Funland Amusement E siamo A Skegness Gas 8 metri Questo qui Proprio così Con un filo Un filo di gas Ok Andiamo All'ultimo round Ok Stardust Bello Ci dice qualcosa Qua Entertainment Stardust Sizzles Hopton Hopton Holiday Village Hopton Sizzlers Hopton Potrebbe essere Il nome del posto Sizzlers Stardust Sono tutti i nomi Haven Hopton Hopton Holiday Village Potrebbe essere Solo il nome Del posto Haven Potrebbe essere Il nome Del Council Diciamo Il comune La regione Haven Caravan Sales Mini Market Cos'è Parkside Entertainment Complex Devo essere sincero Non ho la più palida idea Di dove siamo Il fatto che non vedo il mare Mi spaventa un po' Caravan Sales È un luogo turistico Di qualche tipo Siamo dentro Ocean View Bankside Londrette Ah è un camping Ok ok Siamo dentro Un camping Un camping Un camping O un caravan park Chiamatelo come volete Però se c'è un cartello Dicendo Oceanside Vuol dire Che siamo sul mare Londrette Bankside Waterway Ocean View Sì Horizon South Non sono del tutto Sicuro di sapere Cosa sono questi nomi Ma adesso Continuo a seguire La stradina Vediamo un po' Papa Jones Strictly no parking Però Questo qui È un simbolo Di una località di mare Siamo in un camping Sul mare Io continuo a seguire Ocean View Perché Sono sicuro Che Non posso andare di là Porca miseria Hopton Dove Waterways Ok Waterways Sono i nomi Dei vari Siti Dei Del camping Quindi Hanno Hanno vari nomi Questo qui Oh no 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 C'erano dei bidoni Non ho visto Se erano privati O possibilmente Del Council Perché se sono Del Council Potrebbe esserci scritto No Sono privati Biffa Sono pure bloccato Allora Ci spostiamo Cosa Niente Mi tocca tornare indietro Perché Papa Jones Qui non mi aiuta Abbiamo capito Che siamo Da qualche parte Che si chiama Hopton O Haven Ma Sono nomi Un po' Un po' Generici Non riesco neanche A capire Effettivamente Se siamo Sull'oceano Che è Hopton Holiday Village Cioè potrebbe essere Ovunque Mi viene Da immaginare Che siamo Sul mare Da qualche parte Però Non riesco A vedere Il mare La cosa Mi disturba Sizzlers Ok Tutto molto Bello Andiamo Da quest'altra Parte Vediamo Un po' Bubbles Wind Ok Vediamo Se ci sono Delle cose Quality Chinese To take Away No Cartello Cartello Ok Main reception Caravan exhibition Greenways Ok Welcome Garden Village By the sea Quindi siamo Ok Holiday Park Caravan for say Haven Welcome Hopton Holiday Village Dove cazzo Siamo Hopton Holiday Village Hopton Pharmacy Ok Mi viene da dire Che Hopton Hopton È il nome Del posto Il problema È che potrebbe Essere Ovunque Letteralmente Ovunque A meno che A botta di culo Noi adesso Guardiamo qui E troviamo Hopton Haven Penso sia La regione La regione Il comune Non mi sembrano Posti In Scozia Mi verrebbe Da dire Che siamo Qui Più o meno Sulla costa A metà Hopton È come Cercare Letteralmente Un ago In un pagliaio Hopton Heartpool E poi c'è Da che parte Ho bisogno Ho bisogno di qualche indicazione extra Perché qui Altrimenti non se ne cava un ragno dal buco Assolutamente Tipo questi bidoni Potrebbero avere Il council E invece Ma attacco Il tram Mannaggia Ah Franson Park Non Aiuta Ah Era in beauty By gemma No Allora Dove andiamo No Questo qui È chiuso Andiamo di qua Questa è la strada principale Che porta via Da questo posto Mi verrebbe Da dire Che a un certo punto Ci sia una Pseudo città Perché Il caravan O il camping O quello che è Siamo a Hopton E fin lì Non ci piove Non lo metti Nel centro Della Della città Nel senso E poi lì È sul mare Minimo di spazio Flysense Posto più generico Del pianeta Terra Questa stupida Isola Mi spieghi Perché Mi fai andare Fuori Duro Mi serve Una stazione Per Almeno Capisco In realtà Mi sarebbe Bastato Anche Vedere Il mare Devo tornare Indietro Ok Se questo È lo start C'è il mare Là Non capisco Mi pare Allora Andiamo per Se qui entriamo A Hopton Cazzo si chiama Aspetta Siamo andati giù Di qua No Non siamo andati Giù di qua Ci sono altre Mille caravan Aerea E varie cose Exception C'è scritto Health and safety Mini market Che ci fosse Uno straccio Di indicazione Di dove siamo Ma neanche Con il Kurt Qui ci sono Dei cartelli Fammi dare Un'occhiatina Qua Haven Il council È deciso Non mi aiuta Perché continuo A non sapere Dove Dove Sia Dove sarà Ok Dato per scontato Che di là Dritto davanti a noi C'è il mare Vuol dire Vuol dire che Essendo il nord A sinistra Siamo sulla costa Destra Sì Di qua c'è il mare Solo che Questa costa Non è piccola Però mi viene Da dire che Horton È un posto Abbastanza Grosso Abbastanza Grosso Da avere Questo Camping gigante E Possibilmente Da avere Il nome Sulla mappa Da questa Da questo livello Di Dezoommata Facciamo Una Una Cosa Veloce A vedere Un po' Se riusciamo A trovarlo Cluster Horton Horton Siamo già Arrivati in cima Ah no Siamo solo Qui Biker Le Caster Gibras Kegnes Saremo Da qualche parte Vicino Scegnes Che abbiamo Trotto Prima Suppongo Gibsy Holmpton Quasi Hillstone Ok Zoom Un altro Po' Di più Ornstein No Se non c'è Dimenticato Tutti i nomi Di quello Che stiamo Cercando Ma non importa Se li vedo Poi me li ricordo Sono sicuro Flay Scarborough No Assolutamente Robin Hood's Bay Se non sembra male Whitby Non siamo Whitby Sunbury Sunbury by the sea Heart Pool Sunderland Un sacco di posti Dove sono arrivato a cercare Siamo arrivati a Newcastle Continuiamo Un altro po' Questo devo dire Senza altre indicazioni Qua si fa Si fa un po' Fatica Cioè Bella è quella Se la giochi Però capisco che North Seaton New Begging Creswell Niente ragazzi Qua La vedo Molto Molto dura Sto per Sto per mollare il colpo Foxton No Howick Dove siamo? Siamo arrivati quasi in Scozia Ormai La vedo Molto Molto dura New Newton Benton Bedel Sea Houses Siamo Dove Ross Non è più No Non siamo su un'isola Almeno non penso I feel The rampart Mars Mars Marshadow Ah no Marshal Meadow Leggo i nomi dei Pokemon Nei posti Mi sto Mi sto per No ma poi dove siamo? Eh siamo arrivati in Scozia praticamente Era questo il bordo? Il bordo Il border Sì siamo già in Scozia Che potremmo essere Che potremmo essere tranquillamente Assolutamente Nulla ci vieta di essere Di essere in Scozia A qualche parte Sinceramente Non ne ho la più pallida idea Potremmo essere in ogni luogo Sfortunatamente non ci sono troppe indicazioni Optone Optone potrebbe essere Purtroppo ovunque Possiamo andare a dare un'ultima occhiatina Fuori da Fuori da qua Qui non è tanto fuori Fuori da qua Per vedere se riusciamo a trovare una città Anche se città mi pare una parola grossa Considerando il tipo di cose che troviamo intorno In realtà sappiamo dove siamo So dove siamo Non so dov'è questo posto locato All'interno di tutto il paese Siamo a optononsee Che una googolata veloce Indicherebbe molto facilmente Dove è locato Qua facciamo un po' fatica Optononsee potrebbe essere ovunque Sono senza speranze Niente Direi che il nostro Il mio La mia speranza di fare punteggio perfetto Debba essere annientata così Perché qui veramente non Non se ne cavo un ragno dal buco Belle le sale giochi ma Che è successo? Mi ha portato al punto iniziale Proviamo a dare un'ultimissima occhiata Giù di qua Per vedere se troviamo qualche ulteriore indicazione Tipo qui c'è un altro Optononsee Dove cavolo sei Optononsee Lo so che poi dopo Quando ci do a caso Vedo la risposta E poi mangio le mani Che problemi ha sta strada? Non voglio andare giù di qua Voglio andare dritto Non si può neanche? Madonna Ma dov'è? Dov'è sto posto? Allora niente Dai Ci diamo Ci diamo a caso Potrebbe essere pure un'isola Per quanto ne so Però Ragazzi Non lo so Dato La mia idea Che il mare sia Dritto davanti a noi Quindi A ovest Guardando Avendo il nord Verso sinistra Direi che siamo su questa costa E niente Ci mettiamo lì Ci mettiamo da qualche parte a caso E vediamo un po' Dov'era Congratulation Cosa? Ok La costa l'abbiamo presa giusta Vicino a Great Yarmouth Ok Era un posto minuscolo Porca miseria Ed eccoci qua Ed eccoci qua Hompton Haven Avevamo mischiati qua in mezzo a tutti i mille caravan 420 punti Molto molto male Intanto il mio babbo ha provato a chiamarmi con FaceTime Chiaramente Vabbè Quindi mi ha fatto 20.420 punti E se non fosse stato per l'ultima domanda Avevamo fatto il punteggio perfetto in tutto Porca miseria Mi rode di brutto Ma proprio di brutto brutto 45 minuti Abbiamo fatto Perfetto 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 420 Porca miseria Dov'è che stiamo in classifica? E niente Non è anche in top 3 Oh Solo una persona ha fatto Il punteggio perfetto Secondo me ci possiamo riprovare Non adesso Ma Possiamo tranquillamente riprovarsi Detto ciò Vi volevo far vedere velocemente Molto velocemente Dato che il video va avanti da quasi 50 minuti La mappa che ho creato Ovvero Italian Arcade Salle giochi in Italia Con per il momento La versione 1.0 100 location Che ho scelto a mano Di sala giochi In Italia Tanto per farvi un esempio Puff Dov'è questa sala giochi? Quindi esattamente Come Questo qui che ho appena fatto In Inghilterra Però in Italia In Italia Salle giochi è Non ne ho la più parola di idea E' cattolica Potrebbe essere Vabbè Comunque Mettiamo Metto a caso Tanto per farvene vedere un altro Era cattolica Cesenatico Cesenatico Va bene Esatto Così Questa qui la riconosco Questa Non ve lo dico dov'è Dovete scoprirlo voi Comunque Detto ciò Noi ci vediamo Alla prossima puntata Grazie per aver guardato il video Al solito Siete benvenuti A lasciare un like A iscrivervi al canale Sullo schermo Qua Là Non mi ricordo bene Vi metto Altri video Che potrebbero interessarvi Fatemi sapere Cosa ne pensate Di Di questa serie Su Geoguessr In descrizione Vi lascio il link Alla mia mappa Delle sala giochi italiane Vi lascio anche il link A questa qui Delle sala giochi inglesi E niente Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzuoli Ciao a tutti